...anche da tutto lo studio, ma ora vediamo i titoli. E' lo stesso sistema, praticamente, anziché mettere una posizione di ripresa di film. E' chiaramente da 8-10 secondi, però c'è un temporizzatore, cioè la ripresa può durare all'infinito, può durare 10 secondi, 15 secondi o 30 secondi, va programmata prima. Io crederò aver messo la ripresa a 30 secondi, o meno dovrebbero essere quasi passati, quindi da un momento all'altro dovrebbe interrompersi. C'è una luce arcisa rossa, dovrebbe interrompersi. Ancora 30 secondi sono passati, gli siamo appostati, 1, 2, 3, andiamo a vedere cosa è successo. Un anno orribile per i consumatori che hanno visto salire i prezzi.